Leone! Leone! Dove ti sei cacciato? Ormai è tutto inutile, qui non c'è Mi avevi detto che non si sarebbe perso e che sarebbe tornato a casa Ma non è vero, non avrei mai dovuto lasciarlo da solo Oh, Sara! Non dobbiamo arrenderci Leone è scappato altre volte, ma è sempre ritornato Coraggio, adesso andiamocene a casa Sta tranquilla, piccola Magari è già lì che ci sta aspettando Guarda, ho una moneta! Io vorrei tanto che il leone tornasse Ti prego Leone! Mamma! Mamma! Ha funzionato! Ha funzionato! Leone è nel pozzo Leone! Presto, mamma! Chiamo subito Sam il compiere Leone nel vecchio pozzo Sembra che leone sia caduto nel vecchio pozzo Avverta il soccorso alpino, signore Dica a Tom di raggiungerci sul posto Sono felice di vedere che il soccorso alpino si mobilita anche per un gatto Ma certo, Bronway Pensavo che lo sapessi che noi non ci occupiamo soltanto delle persone Eccoli là, Penny Ciao, Tom Adesso avremo bisogno del tuo verricello Non c'è problema Bene, Tom Noi ci siamo D'accordo, Sam Cosa? Ehi, Ciao! Ciao! Pila via! Charlie, io stavo provando a fare amicizia con quella volpina Ah, già, avrei dovuto immaginarlo Cosa stai combinando, Norman? No, non sono io È un lupo Mamma! Non farti prendere dal panico Ora chiamo Sam il pompiere Norman, prendimi il telefono Non posso, mamma Io non voglio essere mangiato Oh, no Allora usa il rilevatore di fumo Non sarà un incendio Ma è sempre un'emergenza Rompi il vetro Ma come, mamma? Guarda quanto siamo lontani Hai ragione Prova a tirargli qualche cosa Se avessi qui il mio pallone potrei anche farcela Eccolo là È dietro il balcone D'accordo Adesso farò del mio meglio Ma purtroppo ho solo un tentativo È di nuovo il supermercato di Dillis Ma non è possibile Si tratta sicuramente di un altro falso allarme, Sam Adesso Norman Price sta davvero esagerando Oh, no Sam il pompiere stavolta non verrà Penserà che voglia prenderlo in giro E finirò mangiato dal lupo Proprio come il bambino di quella storia E anche io E anche io Mi dispiace tanto, mamma È soltanto colpa mia L'ho fatto scattare io prima E l'ho fatto solo per riavere il mio pallone Oh, no Norman Oh, è Sam È arrivato Sam Attento O cadiamo tutti e due Norman Price Dovresti vergognarti di Che cosa ci fate lassù? C'è un lupo qui dentro Guarda È dietro il bancone In serio Non è uno scherzo stavolta Ma quello non è un lupo È una volpe E credo sia anche ferita Oh, poverina Prendi la pinza, Elvis Oh, Sam Avevo così paura Credevo che non sarebbe più venuto Noi rispondiamo sempre alle chiamate d'emergenza Anche quando le riteniamo falsi allarmi Non preoccuparti Io non voglio farti del male Ecco fatto Adesso fascerò per bene la ferita E si rimetterà in un paio di giorni Oh, aiuto Oh, e andiamo Che male Io inizio a chiedermi Se sa davvero dove sta andando Potrebbe avere solo fame Beh, io di sicuro Forse papà aveva ragione Radar non è proprio un cane da salvataggio Coraggio, ora riportiamolo in caserma Si può sapere che ti prende Aspetta, Mandy Io sento qualcosa Non essere sciocco Quello è il furgone di mio padre Aiuto Papà Papà, ma cos'è successo? Stai bene? Io chiamo Sam il pompiere Mike Flood ha avuto un incidente Sembra sia rimasto intrappolato nella trattoria del pesce intero Incidente alla trattoria del pesce intero C'è una persona intrappolata Chiamiamo l'infermiera Flood Potremo avere bisogno di lei D'accordo, Sam Grazie a tutti Tranquillo, Mike Ti tireremo subito fuori da lì Meno male Sta attento, Sam Non devi muoverlo Devi prima immobilizzarlo Potrebbe avere delle lesioni alla schiena Sam, ho portato questa per tirarlo su da lì No, Elvis Non possiamo usare la sedia Purtroppo non ci sono più le scale Stelty Uscite tutti dalla porta posteriore Così bravi E mantenete la calma, mi raccomando Certo che questa è stata proprio una strada panoramica State tutti bene? Io credo di sì Magnifico A questo punto non resta che fare marcia indietro E tornare sulla strada Signore Evans Guardi Tu dovresti essere a letto Qui ci serve aiuto Dobbiamo chiamare subito Sammy il pompiere Magari Purtroppo il cellulare è rimasto sull'autobus Adesso lasciate fare a me Mike ha dimenticato il suono e la cassetta degli attrezzi L'autobus di Trevor sta per precipitare dalla scogliera Ma è un vero disastro Alla scogliera L'autobus di Trevor sta per precipitare Non c'è tanto da fartere Sam Qui i vigili del fuoco di Pontipandi a soccorso alpino Abbiamo bisogno di te Tom In effetti è in una brutta posizione Ma per fortuna quel costone sembra abbastanza stabile Ricevuto, stiamo arrivando Arriva Sammy il pompiere Trevor, c'è ancora qualcuno a bordo? No Sam, siamo tutti qui È soltanto il mio vecchio autobus che è nei guai E anche Norman Coraggio, ora sbrighiamoci Elvis, il cavo d'acciaio Allontanatevi voi Io inizio a tirare Sam, fa presto La roccia inizia a cedere Ricevuto, Pam Grazie, Sam Grazie Grazie Urra! 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 Mi dispiace di essere scappato, mamma Ma adesso mi sento davvero molto meglio Grazie per aver dato l'allarme Ma in ogni caso non avresti mai dovuto lasciare libera Wally E adesso che cosa gli succederà, Sam? Norman! Norman! Oh! aiuto, aiuto vado a chiamare sempre il pompiere Norman Price è caduto in acqua dal molo vieni al porto Sam, Norman Price è caduto in acqua con un go-kart vado subito signore aiuto Sam sta calmo Norman, ci siamo noi adesso, non preoccuparti cerca di aggrapparti alla mia mano bene, stavolta devo ammettere che hai veramente superato te stesso hai quasi provocato un incidente stradale e hai perfino rischiato di annegare ora tutto questo non sarebbe mai successo se avessi aspettato che Mike ti avesse aiutato a costruire il tuo go-kart mi dispiace Sam e chiedo scusa a tutti non lo farò più, ve lo prometto questa volta non basterà soltanto chiedere scusa Norman adesso dovrai anche cercare di rimediare ai danni dopo che avrà finito potrebbe aiutarmi a costruire un vero go-kart oh, ma certo Norman, molto volentieri passami la chiave forte non appena avremo... ecco fatto ormai ho quasi finito e non ho neanche una goccia di colla sulle dita mamma oh no mamma 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 stupida colla Mamma! Sì! Ma questo da dove viene? Quella è la stanza di Norman. Sarà meglio che chieda aiuto. Un incendio sopra il supermercato di Dillys? Attenzione! Un incendio sopra il supermercato Cat Price. Voglio una mobilitazione generale. Ah, Sam! Forse dovresti aiutarmi di nuovo. Adesso si sente uno strano rumore di sirene. Presto! Ora dovresti lasciare l'edificio nel caso l'incendio si diffondesse. L'incendio? Quale incendio? Norman! Allontanati da qui! Alla svelta! Non posso, Sam! Sono rimasto incollato alla porta! Ho capito! Allora vediamo. Penny! Va a prendere un cacciavite. Dobbiamo smontare il fomello. Vado subito, Sam! Ma queste viti sono arrugginite! Non vengono via! Allora stacca tutta la porta! Norman Price! Rimetti a posto quella porta! Scusa, mamma, ma non posso. Ci sono rimasto incollato. Non preoccuparti, ci penso io. Mi servirà soltanto un po' di acetone per lo smalto. Io non posso credere che tu sia rimasto incollato al pomello. Comunque c'era un avvertimento sulla colla, ma tu come al solito non segui le istruzioni. Torniamo al pulmino subito! No, Divis! Da questa parte! Da questa parte! Vieni qua! Aiuto! Chiamate Sam il pompiere! Tom! Un incendio sulla montagna di Ponti Pandi? Incendio sulla montagna di Ponti Pandi! Sarà meglio avvertire Tom! Pronto Tom! Stiamo arrivando! Abbiamo saputo dell'incendio scoppiato sulla montagna di Ponti Pandi! Sei sicuro, Sam? Comunque d'accordo. Vi aspetto qui. Che strano! Eppure non vedo fumo. Dov'è l'incendio che hai visto? Eccolo! È laggiù! Ci sono ancora le fiamme arancioni che divampano tra gli alberi. Oh! 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 Oh cielo! Mamma! Ma quello è solo il tramonto! Norman Price! Se tu non avessi cercato in ogni modo di spaventare tua madre, tutto questo non sarebbe mai successo. Continua così e io ti porterò subito a casa, è chiaro? Mi dispiace, Trevor. Scusa, mamma. Ti prometto che non cercherò più di spaventarti. Molto bene. Ora sarà meglio che chiami la caserma e gli dica del falso allarme. Oh! Che cosa? Un falso allarme? Ehi, sentite ragazzi! Ehi, ragazza! Falso allarme! Non c'è nessun incendio! Ripeto, non c'è nessun incendio! Era un falso allarme, Elvis. Rientriamo. Ecco l'incendio. Devo immediatamente avvertire, Sam. Pronto? Pronto, Sam, sono io. Ho localizzato l'incendio. Fate presto. Sì, Tom, stiamo arrivando. Tu aggiorna immediatamente il capitano Steve. Oh no! Mamma! Trevor! C'è un incendio! Dico davvero, stavolta avvertite a Sam il pompiere, subito! Norman Price, devo forse ripeterti che queste tue storielle non sono divertenti? No, no, non sono storie, è vero! Venite a vedere! Oh, santo cielo! Cosa ho fatto? Non avrei mai dovuto lasciare incustodito quel fuoco. Tom Thomas, chiama Sam! Sono appena decollato. Dove siete? Siamo sul posto, Tom! Penny, Elvis, portate gli idranti! Incendio al supermercato di Dillys! Sam! Ha chiamato la signora Price! E c'è anche un uomo in mare nella baia? Aspetta, Sam! Che succede? C'è un altro allarme! Sembra che ci sia un uomo in mare nella baia! Ci mandi Penny con la lancia! Sì, buona idea, Sam! Penny? Vado subito, signore! È un incendio di natura elettrica, quindi dobbiamo prima di tutto togliere la tensione. Da quella parte! Vado subito! Tranquilla, l'incendio è stato spento ed è tutto sotto controllo. C'erano troppe spine su una sola presa, ecco dov'era il problema. Elvis ha ragione, Dillys. Devi sapere che è molto pericoloso sovraccaricare le prese. Bisognerebbe sempre evitare. Io ho provato a dirtelo che c'erano troppe luci, ma tu hai continuato ad insistere e insistere ancora. Scusa, mamma. Guardate chi stava nuotando nella baia. L'uomo in mare era proprio Babbo Natale. Evviva! Avrò anche perso tutte le decorazioni, ma almeno ho ritrovato il mio stupendo Babbo Natale. Adesso me lo riprendo perché voglio metterlo sul tetto. Sul tetto? Ma scusa, quei pupazzi non andrebbero messi in giardino. Che cosa ti avevo detto, Norman Price? Ma dai, mamma! Norman Price, io credo sarebbe il caso che Babbo Natale ci aiutasse a ringraziare questi vigili per quello che hanno fatto per noi. Sorridi, Norman. Sei stato gentile a regalare il tuo gonfiabile per la caserma e per ringraziarti ho preparato queste tortine natalizie per te. Sì, Norman, sei stato molto gentile e così tutti in città potranno vedere Babbo Natale. Ecco, non vorrei essere egoista. Ehi, Norman, lasciane qualcuna per gli altri. In effetti, questo è il posto ideale per il tuo Babbo Natale. E poi qui non potrà sicuramente causare altri incidenti. Una tortina natalizie, signore? Grazie molte, Elvis. Non parli molto, vero? Ehi, questo sembra proprio l'elicottero di Tom. Chissà che cosa è successo. Deve esserci un incendio qui intorno. Sento puzza di bruciato. Bene, signore. Ho appiccato l'incendio. L'esercitazione può iniziare. Oh, magnifico. Allora diamo l'allarme. Coraggio. Ora diamoci da fare, Elvis. Emergenza alla torre di addestramento. Un incendio ha intrappolato una persona all'ultimo piano. Stavolta vi serviranno Jupiter e Venus, ragazzi. E buon lavoro. Ora non preoccuparti, Dolly. Ti porteremo in salvo tra un secondo. Diamo un'occhiata alla spiaggia. Aspetti. Oh, no. Guardi, la torre di addestramento. È Norman. Aiuto. Guarda in cima la torre, Sam. Ma quello è Norman Price. Che cosa ci fa là su? Aiuto. Elvis, tu tieni sotto controllo le fiamme. Penny, abbassa gli stabilizzatori e alza la scala. Non preoccuparti, Norman. Sam, sta venendo a prenderti. Che cosa vi avevo detto? Lo sapevo che Norman era in pericolo. Presto, Sam. Mi porti via da qui. Oh, i miei biscotti. Urrà! Arriva! Bravo! Allora, sentiamo un po'. Vincere una scommessa è diventato forse più importante della tua stessa sicurezza? Ovviamente no, capitano Steel. Avremmo dovuto pensarci prima di nasconderci. Oh, ma adesso sono io il campione assoluto di nascondino di Pontipandi. Ascoltami bene. Io ti consiglio di andarti a nascondere a casa per un po'. Sì, e festeggerai mangiando i bastoncini che avresti dovuto mangiare due ore fa. Oh, d'accordo, mamma. Dobbiamo organizzare le ricerche. Se il radar fiutasse qualcosa di Helen, poi potrebbe condurci da lei. Tu sai dirci da quale parte sono andate, Mike? Mi dispiace, Tom e io continuo a pensarci, ma non me lo ricordo proprio. Oh, ecco, questo dovrebbe essere suo. Fiuta qui, il radar. Ora trova Helen. Ma la montagna di Pontipandi è da quella parte. Lo so. Chissà dove ci sta portando. Non sono stato io! Ciao, radar! Che cosa ci fai qui? Noi stiamo cercando Penny e tua madre. Radar ha fiutato la maglietta di tua madre e ci ha portati dritti qui. Ma quella non è una maglietta, è un vestitino ed è mio. Oh, come hai fatto a dare a radar il vestito sbagliato da annusare? Oh, mi dispiace, io veramente non ricordavo che fosse il tuo. Questa è sicuramente della mamma. Aspettate! Adesso ricordo... Sì, ecco, Helen stamattina ha detto che sarebbe andata a fare una bella passeggiata in collina. Coraggio radar, ritrovali. Aspettate! Ciao! Siamo qui Ben! Oh, Berta! Arrivando Sara! Tieni duro! Papa! Non riesco a muovermi! Aiuto! Non si preoccupi, c'è Norman Manqui! Norman! Smettila di sognare, tu non sei un vero supereroe! Io corro a chiamare Sammy il pompiere! Aiuto! Un incidente sulla spiaggia! C'è stato un incidente sulla spiaggia! Ci vorrà la guardia costiera! Prendi la lancia con Penny! Non preoccuparti, papà! Sammy il pompiere starà per arrivare! Aiuto! Eccolo! È arrivato! Urrà! Urrà per Sam! Che cosa è successo, Charlie? Ciao, Sam! Ecco, niente di serio! Ho solo urtato uno scoglio e sono caduto in acqua! Sono rimasto impigliato in una nassa! Ma posso farcela? Oh, no! Adesso mi tuffo a dare un'occhiata! Certo dovevi andare veloce quando hai urtato contro lo scoglio! Non lo so! Io volevo solo fare l'eroe! Sì! Ecco, questa è quella che si chiama un'azione da veri eroi! Urrà! Evviva! Fantastico! Bell'amore! Guarda, Leone! Lo vedi? Il tuo eroe è in tv! Io mi sento così in imbarazzo! Mai quanto me! Quando oggi ho scoperto di non avere più la tenda del bagno! Aspetti! Adesso viene la parte migliore! Guardate! Saluti da Norman Man! Sono un eroe anch'io! Norman! E con questo Sam ha fatto tre salvataggi in un solo giorno! Ma quella è la mia tenda del bagno, Norman! Norman! Ma tu, Norman, ne hai già prese tante! Noi lavoriamo insieme! Va bene, adesso vado a cercare un altro scoglio prima che quei due li ripuliscano tutti! Aiuto! Ascolta, Elvis! Quegli attrezzi sono molto utili nel nostro lavoro ma non possono essere usati in qualunque emergenza Ho capito Dai, Norman, tira! Al mio tre! Uno, due, tre! E adesso? La marea sta cominciando a salire Dobbiamo trovare il modo di liberarti il piede il prima possibile Avanti, tira, Norman! Tira! Io sto tirando Ma non viene via! Ma non possiamo lasciarti qui Che cosa possiamo fare adesso? Chiamare Sam il campiere! Qualcuno è rimasto incastrato tra gli scogli? In spiaggia Sam! Qualcuno è rimasto incastrato E la marea sta salendo Prendi le pinze idrauliche, Elvis! Non si sa mai! Sì! Cos'è successo, Charlie? È rimasto incastrato E io ho già provato di tutto per liberarlo No, non proprio tutto Già, hai ragione C'è ancora un'ultima cosa da tentare Puoi cercare di sciogliere i lacci, Norman? Io credo di sì Evviva! Grazie davvero, Sam il pompiere Avrei dovuto pensarci io Ehi, un momento Ma dove è finito il mio secchio? Ti ricordi dove l'avevi lasciato? Oh, l'ho perso Coraggio, ora andiamo Prima che la marea ci trascini via Aspettate! Qui c'è la mia scarpa Tranquillo, adesso ci penso io E chi c'è con lui? Oh no! Qui pronto intervento Che cosa posso fare per lei? La prego, è un'emergenza Chiamate subito Sam il pompiere, per favore Norman Price precipitato sulla scogliera Questa è una missione per il soccorso alpino Io prendo l'elicottero, Sam Ci vediamo lì Eccomi Sam, sono qua sotto Sta tranquillo Norman, adesso tu dovrai fare molta attenzione A tutto quello che ti dirò, d'accordo? Va bene Pronto Tom? Qui ci servirà una doppia imbracatura Ricevuto! Tieniti pronto, la sto già calando Dammi a sentire Norman Adesso io ti passerò un'imbracatura Presa! Ora devi farla scivolare sopra la testa In modo che ti finisca sotto le ascelle Io ho capito Sam, ma lei si occupi di radar Per favore, d'accordo Norman! Adesso devi indossarla come ti ho spiegato Hai capito Norman? Mi dispiace Io pensavo di sapere quello che facevo Ma non era così Non importa Sta tranquillo Tiraci su Tom! Ecco qua Norman Una bella cioccolata bollente per riscaldarti Siamo stati fortunati che ci fosse anche radar Lui è un cane molto intelligente Ha cercato di impedire a Norman di oltrepassare il cartello Mi scusi Sam Lei ci aveva avvertito, ma... Allora, l'avete vista poi l'aquila reale? No In realtà io non credo che ce ne siano in questa zona Guarda, il tuo amichetto Tom Sembra di sì Wow Io non avevo mai visto un uccello così da vicino Guarda come muove le ali Radar, l'hai mandato via! Radar gli ha appena fatto un favore Quel uccellino aveva bisogno di tornare alla natura Non certo di restare qui con noi Certo che il nostro Radar è veramente un cane molto intelligente Aspetta, papà! Torna di là, Mandy E subito! Oh, ma... Fa come ti ho detto È pericoloso Oh, no! Che adesso? Che cosa facciamo fare? Ma cosa sto cercando? Mi muoverò il laboratorio Fuoco tutto Vado subito a chiamare i pompieri Un incendio a casa dei flochi Oh, no! I fuochi d'artificio Oh, oh, oh Ops! Un'altra volta C'è un incendio dai flochi Io credo che sia a causa dei fuochi d'artificio Elvis, Sam Prendete il Jupiter Io vi seguirò dalla sala controllo Chissà dove sarà andato, Leone E se si fosse nascosto proprio lì dentro? Non dirlo neanche per scherzo Sam! Ascolti! Forse Leone si è nascosto in laboratorio Di nuovo! Ora ci penserò io Niente Per fortuna lì dentro non c'è Ho controllato dappertutto Ne sono sicuro Oh, per fortuna, Sam Che sollievo Per fortuna Azi Picchia, ma dove sarà finito? Voglio tornare a casa, papà Chissà se Leone ci aspetta lì Dai, ti accompagno io Ehi, ma non dobbiamo prima vedere il resto dei fuochi Secondo me ne abbiamo visti anche abbastanza per oggi Sì, infatti La prossima volta lasceremo fare ai... Ai professionisti Era tanto che non spegnevamo un incendio così grosso Hai ragione Io avevo quasi dimenticato come si spengono Ma che cosa è stato? L'hai sentito anche tu? Che cosa? Avvestata una cassa sulla spiaggia? Ticchettio sospetto Oh, James Jones è rimasto incastrato sotto la cassa Alla spiaggia, Sam E alla svelta C'è una persona incastrata sotto una cassa Ci dirigiamo subito lì, signore Potrebbe intanto avvertire Penny di raggiungerci subito via mare? Sì, ci penso io Addio, giornata tranquilla Oh, eccoli là Penny chiama Sam il pompiere Dicevo, Penny Riesco a vederli, Sam Sono appena dietro il promontorio Grazie, Penny Stiamo arrivando Sam Ho tanta paura Sta tranquillo, James Adesso ci siamo noi Sara, voglio che tu torni al ristorante con Mandy Sara Scusa se ho detto che non eri divertente La prossima volta giocherò con te, lo prometto Tu cosa credi che sia, Sam? Non ne ho la più pallida idea Comunque facciamo alla svelta Adesso noi cercheremo di sollevare delicatamente la cassa D'accordo? Ce la fai, James? Sì, mi sono liberato Qualunque cosa sia, il rumore sta aumentando Lo sai che cosa sembrano? Sveglie Una cassa di... Una cassa di sveglie Bene, almeno abbiamo scoperto che cosa c'era dentro Tutto questo non sarebbe mai successo se non avessimo litigato, papà Scusa, papà Io avrei dovuto ascoltarti Dai, vieni qui ora Non ti preoccupare, James Certe lezioni purtroppo vanno imparate da soli Grazie, Sam Grazie, Elvis Noi siamo qui per questo, James Vedi, Cridlington? Se c'è una cosa che non posso accettare Sono i continui ritardi Fare il pompiere ha un compito di enorme responsabilità Sì, ho capito Mi dispiace, Capitano Steve Però, visto il tuo comportamento di oggi Sam mi ha proposto che ti sia conferito un premio Oh, bella, ringrazio, signore Ma che cosa sarà? Sento un ticchettio Elvis è una sveglia Spero ti aiuterà ad alzarti in orario la mattina Spero anch'io Ah, ecco fatto, Dillis E ha smesso di piovere Le cose si mettono per il meglio Hurra! A questo punto possiamo di nuovo fare la festa E cantare la canzone in giardino Allora, non è rotto, ne sei sicura? Ma certo, è soltanto un graffio Oh, per fortuna è tornata la luce Non mi andava l'idea di lasciare Mike al buio in casa Sono perfettamente d'accordo Vedi, non è certamente da tutti Saper mantenere la calma al buio Allora, ci siamo Tranquillo, le salsicce sono quasi pronte Oh, ed è tornata anche Ellen Ciao, mamma Oh, ma è stupendo! Sono tornata appena in tempo E non ho dovuto fare niente L'idea era quella, giusto? Oh, i tovaglioli Li prendo io? No! Oggi io voglio che tu non faccia proprio niente Te l'ho già detto Oh, aiuto! Al fuoco! Aiuto! Ellen, fai qualcosa! Chiama Sam il pompiere Oh, sembra che sia scoppiato un incendio a casa dei flott Oh, no! Sarà probabilmente collegato al blackout Sono tornato Non per molto, Sam, andiamo Allora, c'è qualcuno rimasto all'interno? Nessuno, siamo tutti qui D'accordo Penny, gli autorespiratori, presto D'accordo, Sam Stacca l'interruttore generale Staccato! Quando va via la luce, dovete sempre essere sicuri che l'alimentazione delle piastre elettriche della cucina sia staccata, avete capito? È stata colpa mia Mi raccomando, non lasciate mai nulla sulle piastre, per esempio i tovaglioli Già, come ho fatto io Mi dispiace Oh, pensa che io lo stia solo salutando Devo fargli sapere che ci serve aiuto Ma che fine avrà fatto il mio cellulare? Rosso è il segnale Rosso è il segnale Rosso è il... Bravissima! Aiuto! Aiuto! Rosso è il segnale Se... Rosso è il segnale Qualcosa non va Speriamo che Sam abbia capito Mamma! Tenaglia si è liberato Non risponde Ora sarà meglio che chiami il pronto intervento Oh, no! Bronwyn è nei guai Chiamo subito il soccorso alpino Tranquillo amico Voglio dire, signore Li troverò Tenaglia! Ma che cosa ci fai qui? Tenaglia! Dove corri? Non posso atterrare qui Chiederò appoggio Sam! Ho la sensazione che siate nei guai Qual è il problema? La mia gamba Chiamo l'infermiera Flotta Ma perché oggi non mi risponde nessuno al telefono? Tutto bene? Tenaglia mi ha portata qui Tenaglia! Sei stato bravo, lo sai? Non è niente di serio Ma adesso dovremo portarti in ospedale per fare una lastra Tom! Adesso è il momento di calare la barella Eccola, Sam! No, grazie Va bene così Questi falsi allarmi ci fanno sprecare tempo prezioso Che cosa sarebbe successo se oggi ci fosse stata un'altra emergenza? Lo so, signore Lei ha ragione Ma qui c'è stato davvero un equivoco E poi è meglio andare sul sicuro Sì, questo è certo Oh, guardate là! Elvis! Via la corrente ed ora l'estintore Scusa, Penny Quello era il tuo toast Ho fatto giù Ciao, Norman Lo sapevi che alla trattoria del pesce intero oggi c'è il menù per la festa della mamma? Forse potresti portarci tua madre Non c'è bisogno Io le ho già fatto un regalo, vedi? È vero E questo cosa dovrebbe essere? Ma è un portacandela, è evidente Davvero? Beh, forse ti saresti potuto impegnare un po' di più, lo sai? Ciao, mamma Guarda, ti ho fatto un regalo per la festa della mamma Oh, Norman È... è simpatico Ti piace, è un portacandela Oh, ma sul serio? Grazie, sei un vero tesoro Ricordale la cena, la trattoria del pesce intero Oh, Trevor, volentieri No, io dicevo a Norman per la festa della mamma Grazie, ma... Io cena ogni sera con mia mamma Ecco la cena, mamma Che buono odorino, Bronwyn Questa volta non è merito mio, Ellen Oggi non ho mosso un dito Sì, stasera dovrai accontentarti della mia abilità e dei miei nuovi due assistenti Ciao, Odilis Dov'è Norman? Oh, ecco Oggi lui ha preferito andare sullo skate Ma guardate un po' che cose mi ha regalato E che cos'è quello? Io direi che è un semplice tappo di plastica inchiodato su un pezzo di legno James, non essere scortese, per favore Questo è un porta candela Non ti dispiacerà se lo uso, vero? No, di certo, Odilis Al contrario, ma figurati La festa della mamma è un vero strazio Tutti i miei amici sono con le loro mamme E andare sullo skate da soli non è affatto divertente Grazie per l'invito, Trevor È un'idea stupenda Mangiare l'umedi Ops Scusate Attenta, Odilis No! Oh, fuoco! Per favore, ora cercate di restare calmi E uscite tutti al più presto dal locale Forza! Forza! Un incendio alla trattoria del pesce intero? Un incendio alla trattoria del pesce intero fatto in fretta Questa volta non è un falsa allarme, Sam Ha chiamato Charlie in persona Oh, chissà dove sarà l'incendio Penny ed Elvis, voi due prendete l'idrante Io controllo che non sia rimasto nessuno dentro D'accordo, Sam Mamma! Mamma! Norman, stai indietro Sì, ma la mia mamma è lì dentro No, tranquillo, lei è laggiù, Norman Norman! Oh, mamma Ho avuto tanta paura Credevo che tu fossi in pericolo Oh, Norman Ma allora mi vuoi bene, veramente? Ma sì, certo Tu sei la mia mamma Salve! Salve, Mike! Norman! Che c'è adesso? L'ho fatta la lavatrice? No, tu hai solo rotto la lavatrice Oh, spero sarai contento E adesso dovrai chiedere gentilmente a Mike se possiamo usare la sua Cosa? Io... Divertiti, Norman Chissà se Sara e James vorranno fare skateboard Senti, Norman, neanche a me piace sbrigare le faccende di casa Ma se vanno fatte allora tanto vale farle bene, non credi? Oh, no! Chiamo subito a salvi il pompiere Un incendio a casa dei flott No, no! Perché l'allarme scatta sempre nei momenti meno opportuni? Oh, incendio a casa dei flott Penny, prendi il fuoristrada Allontanatevi dalla casa Adesso ci pensiamo noi Elvis, racca la corrente Ok, sen Oh, no! Che ha combinato stavolta, Norman? Guarda che io non centro niente È colpa mia Sono uscito e ho lasciato il ferro collegato alla corrente Conviene sempre stare molto attenti Qualunque lavoro si faccia Sì, anche uno spazzolone può essere molto pericoloso Elvis ha ragione Ora non facciamoci prendere dal panico Restiamo calmi Come calmi? Ma come facciamo a restare calmi? Qui c'è un incendio Allora, adesso prova a ripetere con me Io devo restare calmo Io devo restare calmo Io devo restare calmo Ma che state facendo qui dentro? Venite tutti fuori E qualcuno chiama i semi il pompiere È tutto il giorno che corre, Sam? È vero, l'ho visto anch'io Oh, beh, ora non sta correndo Poverino, sarà stanchissimo Ma scusate, come avete fatto a credere che avesse corso tutto il giorno? Un incendio alla pescheria? Shhh Oh, beh, ora non sta correndo Sembra che ci sia un bambino al piano di sopra Dove state andando voi due? A salvare un bambino Ma a me non sembra un bambino Infatti quello è l'agnellino di Wally Che ho preso per fare uno scherzo È tutta colpa mia Oh, mi dispiace tanto Tranquilla, Sara Ora ci pensiamo noi Penny, prendi gli autorespiratori Elvis, tu prepara l'idrante Ora vado a salvare il... il bambino Oh, Sam, il pompiere Il mio agnellino Io lo sapevo che non era un bambino Anch'io, Mike Anch'io Beh, Sara, ma è comunque piccolo E vuole stare con Wally Forse mi vedrà qualcuno dagli scogli Io lo sapevo che non c'era nessun dinosaurio Ti sbagli È che sono molto bravi a nascondersi Tutto qui James, guarda C'è L'acqua Siamo in trappola Sì, io ho visti un paio d'ore fa Io credo che stessero andando alla spiaggia Beh, non sono ancora tornati E la marea sta salendo Devo chiamare subito Sam il pompiere Oh, James, Sara e Norman scomparse Oh, santo cielo James, Sara e Norman sono scomparsi Sono stati visti l'ultima volta sulla spiaggia Avverta il soccorso alpino, signore Dom li cercherà dall'alto E Penny ed io faremo lo stesso dal mare Qui in soccorso alpino Vedo Sara su uno scoglio a 500 metri Dalle scogliere di North Bay Grazie, Tom Ora la vediamo anche noi Salta su, Sara Ecco fatto Dove sono Norman e James? Sono entrati nella grotta E poi non li ho più visti uscire L'ingresso della grotta è allagato, Sam Aiuto, aiuto, aiuto 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 Jake, guarda Lì c'è qualcosa che si muove nell'acqua Deve essere un mostro marino Ma Norman Non ci sono mai stati Penny Salve ragazzi Norman, ritorna qui, è solo Penny Io lo sapevo Tranquilli, ormai siete al sicuro Vi porterò io fuori da qui Che ne sarà di me? Tornerò subito, Norman Oh, e questo cos'è? Il Capitano Steel Norman Price Fermo! Dove credi di scappare? Hmm, niente male come modello, però Norman Salve, Sam Allora, come vanno le tue ultime creazioni? Malissimo A Pontipandi gli aeroplanini di carta non piacciono a nessuno Fulmini fiammeggianti Il telefono Presto Qui pronto intervento Che cosa posso fare per lei? Al fuoco Al fuoco Un incendio nella nostra cucina Sam, Sam La nostra cucina va a fuoco, presto Un incendio nella nostra cucina? E com'è possibile? Chiudi subito il rubinetto del gas Rubinetto chiuso Elvis Cridlington C'era un estintore proprio accanto all'uscita di sicurezza Mi dispiace, ma non ci ho pensato E il mio stufato Oh Si era già capitato di bruciare la cena, ma non così I pompieri dovrebbero spegnere gli incendi Non provocarli E poi proprio nella giornata della prevenzione Io non so come sia successo Questa qui potrebbe essere una spiegazione Forse quell'aeroplanino potrebbe dirci chi è il responsabile Oh, si E' una lettera E c'è un nome qui Egregio Capitano Steel Io Egregio Capitano Steel Allora è stato lei No, non è vero E' stato Norman Norman Price Mi dispiace E' stato un incidente Stavo solo cercando qualcuno a cui piacessero gli aeroplanini quanto a me Ho capito Ascoltate, ora io farei due chiacchiere con il ragazzo Per dargli una bella rimproverata Buona idea, signore Oh, povero Norman Probabilmente è stato solo un incidente Spero soltanto che il Capitano Steel non sia troppo duro con lui Non preoccuparti, Elvis Io ho la netta sensazione che quei due alla fine sicuramente troveranno un accordo Ma che cosa stai facendo, Norman? Ti avevo detto di no Fermati La balena! L'abbiamo colpita! Oh, Norman Ma perché non mi hai ascoltato? Io volevo soltanto prenderla per vincere la gara Papà, papà, stiamo imbarcando acqua Deve esserci una palla Ci mancava solo questa Un ragazzo di segnalazione, Charlie deve essere nei guai Sarà meglio che chiami semi e compie Oh, santo cielo, Charlie è in difficoltà con la sua barca Soccorso in mare La barca di Charlie è in difficoltà In barca acqua Sembra che ci siano anche dei bambini a porta Adesso andremo a fondo Aiuto, aiuto Abbandonare la nave Basta, devi cercare di calmarti, Norman La prima regola in mare è evitare il pan Dai, adesso respira a fondo Guardate, ecco Sam e Penny Sam, Penny! Norman, respira a fondo, ho detto Scusi Ci sono feriti? No, però la barca ha una palla Comunque è tutto a posto finché continuo a pompare fuori acqua Bene, adesso venite ragazzi Sara James No, Norman Tu resta a bordo e aiuta Charlie Cosa? Ma non... Va bene Allora resto Grazie, Norman Bel lavoro, ragazzo Adesso ti prendiamo a traino Ma dovremo guidare insieme quel valenottero verso il mare aperto, d'accordo? Sì, Norman e io ce la caveremo, vedrete L'allarme inizia a suonare Sam sa sempre cosa fare Se nei guai ti cacerai Sempre Sam tu troverai Su forza chiama Sam Grazie a tutti Grazie a tutti